Sì, partita, diciamo mi è piaciuta ma è stata un po' morta, primo tempo un po' morto però siamo stati tanto sfortunati, tanti sfortunati perché Sanchez è uscito a primo tempo con una fatica muscolare, con il virus, c'è molta molta tristezza, molta molta sfortuna e non è bello ragazzi è stata una partita che io mi aspettavo un pochino di più, un pochino più di carattere, il gol del Lukaku nella mischia, è entrato nella mischia, ha fatto un gol pazzesco come sempre ha fatto la doppietta ieri sera, ci ha salvato sul filo del rasoio, solamente il problema è che qua c'è questo problema della difesa Allora, Carlo Conte, io devo dirti una cosa, cioè hai rientrato bastoni, no, io dico, usalo, hai sensi e non lo usi Mi fai certi cambi, hai messo Peridic, mi hai messo bastoni, non so che cambio sia, non so che cambio sia Allora, io do la colpa un po' a Conte, perché comunque doveva fare la formazione meglio Poteva mettere benissimamente, a posto da Zekity Broads, ci poteva mettere sensi comodamente Eriksen pareva un addormentato Darmian ha fatto un bel assist, ma vuoi del resto, se immagino un sacco di cose, non è che ha fatto granché Un po' deluso, perché io mi aspettavo di più, è vero, è la prima partita di Champions, l'anno scorso Siamo partiti proprio con un pareggio con l'Osana Praga e poi Però ragazzi miei qua c'è da lavorare, perché un po' la sfortuna Perché qua ragazzi miei, la sfortuna ci sta, ci sta Perché parecchie persone mi dicono, perché adesso io qua devo parlare Parecchie persone mi dicono, eh voi avete perso con il Milan Ma noi abbiamo perso con il Milan perché comunque il Milan ha approfittato anche delle nostre debolezze Perché non avevamo i giocatori completi Un po' la mentalità che non c'era E il Milan ha vinto Ma la Juve che fa? La Juve sì, ha vinto col Dinamo Kiev Ma il campionato non è che mi sta piacendo Cioè, siamo all'inizio, è vero, però Cioè, pareggio col Crotone e con la Roma Ma la Roma ci può pure stare, ma il Crotone no Il Crotone no Comunque, tornando a noi ragazzi Tornando a noi, è stata una partita un po' delusa Lukaku alla fine del secondo tempo l'ha rimeso a posto Io credo che l'unici sbagli che ha fatto Conte Doveva mettere direttamente Martinez dal primo tempo Doveva mettere a posto di Posto di X doveva mettere Sensi dal primo E Bastoni dal primo tempo Perché Bastoni è un centrale di difesa Ed è più preciso Io avrei messo così la formazione ragazzi È vero, è la prima giornata Vi ricordo che lo Shakhtar vinto con Real Madrid 3-2 Ve lo devo ricordare perché è vero, il Real Madrid stava rimontando Aveva varieggiato È stato poi annullato il gol Ma allo stesso tempo comunque stava recuperandosi Ma comunque ha vinto al Real Madrid Ha vinto Conte il Real Madrid E quindi l'Inter deve stare attenta Perché l'Inter è la prossima di andare a giocare là Ma, ma, in questa settimana Vediamo se recupereremo qualche giocatore Perché nel frattempo abbiamo recuperato Bastoni e Nengolani Vedremo se riusciremo a recuperare almeno Cagliardini E Neng, almeno per il momento E vedremo contro il Genoa come si metterà la cosa Qualcuno dovrà recuperare, penso Però ragazzi miei, dovevamo fare di più Dovevamo fare di più Dovevamo fare di più perché qua si tratta di Champions E quindi tu come squadra hai diritto Quest'anno hai tutte le carte in regola per passare Allora io adesso pretendo che dalla prossima col Genoa Perché col Genoa non è facile Pretendo che con il Genoa si vinca Ma si vinca buono Bene, si deve vincere Voglio un Inter come tempo fa Che vinceva Vinceva Con più tranquillità È vero, c'è la sfortuna degli ondagiati Del virus, tutte queste cose Perché questa è anche sfortuna E Conte non può fare nulla Su questo non le do la colpa Ma se tu vedi che hai dei giocatori Che comunque Sanchez non era tanto in forma Tu vedi che hanno in forma e non lo usare E quindi tu mettilo Diciamo Negli ultimi minuti Eriksen si arrabbia che non lo fa giocare Però Eriksen lo metti in campo Non ti dà Non ti dà perché quello pomango gioca spesso Però a questo punto Io mi ho messo Sensi Mi ho messo Sensi Vidal non mi è piaciuto Sapete quanto mi piace Ha procurato un calcio di rigore Che ci sta Per fortuna poi l'Inter Poi Qualcuno che abbiamo preso Dovando a Andano Vincenzi lì Vabbè lasciamo perdere È un po' Un po' in giù Un po' in giù di questa cosa Mi aspettavo molto di più Io spero che dalla prossima Riprenderemo a marciare bene E io ci credo In questo girone Un po' difficile Ma io ci credo ragazzi Ci credo Dovevamo fare di più Molto di più Sono un po' triste per questo Adesso ragazzi miei Ci vediamo in un prossimo video Che farei video dei pronostici Perché domani si comincia E che devo dire Un po' rammaricato Un po' deluso Per me i migliori in campo È stato Luca E barella Lukaku e barella Per me sono stati i migliori Come sempre Non E la votare Quanti pali Quanti pali Ha preso la votare Il palo Quel palo Ancora tre Mamma 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 Quella punizione di colo L'ho pure Stava per entrare Vabbè Vabbè Comunque ragazzi Iscrizione al canale E pollice pollice in su E crediamoci Non buttiamoci giù Amala Un po' di